Ancora un furto alla concessionaria dal bello moto di Viale Italia a Conegliano, già presa di mira dai ladri nel mese di novembre. Alle 3 di stanotte i malviventi hanno sfondato la vetrata, riuscendo a portare via, prima che arrivassero le forze dell'ordine, tre moto da cross e una bicicletta elettrica, per un valore ancora da quantificare, ma certamente di parecchie, migliaia di euro. Sul posto sono arrivati pochi minuti dopo i carabinieri, ma dei ladri nessuna traccia. Indizi utili potrebbero arrivare dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. La concessionaria aveva già subito due razzie, una all'8 novembre scorso, quando sparirono quattro moto per un totale di 40.000 euro, l'altra un anno prima, nel novembre 2016, quando vennero rubate due moto e due biciclette.